Giampaolo Medei tante note positive i tre punti la prestazione il ritorno di Alex Nikolov mantenuto in campo anche nell'ultimo set cosa ci dici? Dico che io guardo molto in questa fase la nostra squadra perché cerchiamo continuità in tutti i fondamentali stasera credo che nel fondamentale di muro e difesa abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo messo in difficoltà poi sono andati anche un po' fuori giri per questo credo abbiamo fatto una bella prova consistente anche il nostro side out ha funzionato bene io in settimana ho insistito molto nella gestione della battuta che è andata bene per i primi due set non bene assolutamente nel terzo quindi è un fondamentale su cui bisogna lavorare ancora soprattutto nella gestione però diciamo che è stata una prestazione positiva generalmente di squadra sono contento per Alex gli ho dato la possibilità di tornare di assaggiare un po' il campo con continuità ha risposto bene lui sta progredendo giorno per giorno quindi lo aspettiamo nella migliore forma possibile il più presto possibile comunque ecco generalmente della prestazione sono contento di tutti anche di chi ha fatto dei piccoli ingressi io cerco sempre di lavorare e di parlare di squadra perché questo è un gruppo coeso di buon livello 14 giocatori di buon livello quindi c'è bisogno di tutti e tutti stasera hanno risposto presente quindi sono molto soddisfatto nel terzo set l'hai detto magari qualche difficoltà in più però hanno risposto bene era un po un esame il terzo set sono rimasti sempre sul pezzo sì diciamo che siamo calati in un paio di frangenti soprattutto in battuta come ho detto abbiamo fatto troppi errori consecutivi nella parte centrale del set quindi abbiamo fatto in modo che la dina rimanesse scusate cisterna rimanesse attaccata attaccata al risultato attaccata al set abbiamo commesso un paio di imprecisioni anche nel nostro side out però per il resto poi la squadra ha riuscito bene abbiamo hanno fatto anche un break importante con Baranovic su con un servizio sulla linea che ci sta nella palla a volo è una cosa che può accadere non ci siamo scomposti siamo andati avanti quindi sicuramente ecco la squadra ha tenuto un buon livello anche nel diciamo nell'unico momento di difficoltà della partita e questo è un bel segnale